Oggi abbiamo portato a termine una complessa operazione che ci ha consentito di arrestare 17 appartenenti a un'organizzazione mafiosa, si tratta di Indrangheta, si tratta di associazione a delinquere di stampo mafioso. Al di là del connotato militare va evidenziata l'infiltrazione del tessuto economico e produttivo agricolo dell'area sibaritica di cui si è resa responsabile questa pericolosa organizzazione. Hanno preso il dominio del territorio con le normali attività estorsive, con le normali attività di controllo del territorio, con le normali attività militari ma sono riusciti a infiltrare dal punto di vista economico tutte le attività che insistevano sul loro territorio e che avevano a che fare con l'agricoltura e la diffusione dei prodotti ortofrutticoli coltivati in quell'area. C'è in più una componente che è stata attinta che riguarda invece attività di truffa nei confronti dell'Inps e di alcune agenzie interinali perché questa organizzazione era in grado addirittura di costruire dei rapporti di lavoro fittizi per dei braccianti i quali poi ottenevano dall'Inps le prebende normali per la loro assunzione e questi soldi andavano a finire nelle casse dell'organizzazione stessa. Abbiamo concluso l'azione di contrasto con il sequestro di ben 10 milioni e mezzo di beni per equivalente, insomma beni che sono stati acquisiti con le attività illecite dall'organizzazione stessa. La direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, la squadra mobile di Cosenza, lo SCO nelle sue componenti delle indagini giudiziarie e delle indagini patrimoniali ha veramente portato a termine un'operazione che ha pulito il territorio da questa pericolosissima organizzazione mafiosa.